salve ho voluto fare questo video in un grande negozio specializzato per articoli per pasticceria per pasticceria e per ristorazione vedete questi qua sono gli stampi per le torte no gli anelli quelli tondi quadrati a cuore a goccia di tutti i tipi e di tutte le misure così giusto per farvi vedere qualcosa di quello che serve nelle pasticcerie per fare dei dolci ad alti livelli anche per casa questa è una tartellatrice dove si fanno le tartellette di frutta dove si mette la pasta frolla dentro si chiude e la cuoce istantaneamente escono fuori delle tartellette perfette questi sono stampi per chiffon cake per pastiere per pan di spagna tutte le misure stampi per ciambelloni per pastiere anche monoporzioni per pandori tartellette di frutta grandi piccole medie le teglie sotto e degli stampi per ciambelloni di tutte le misure con buchi più larghi più stretti i stampini per babà grandi medi e piccoli per savare per zucotti questa sarebbe la cascata di cioccolata dove si mette sotto della cioccolata si attacca alla spina che riscalderà lì sotto e con il compressore porterà la cioccolata sciolta sopra e farà proprio la fontana di cioccolato questi sono stampi in silicone di tutti i tipi per per le torte monoporzioni minion vedete queste sono per torte e monoporzioni ci sono bellissimi e non costano neanche tanto vedete questa stella bellissimo questi sono i tappetini per fare i biscui decorati no ci ho fatto anche un video io con i biscui decorati qui sono intarsiate delle forme che poi appariranno sul foglio di pan di spagna o quello che vogliamo fare questi utilissimi anche per inserti questa è per torte è uno spettacolo qui c'è veramente di tutto guardate questo che bello per per i rotoli di pan di spagna no come per farli venire con questa decorazione o anche per dolci e anche per torte questi sono i stampi per le uova di pasqua stampi stampi per monoporzioni e minion c'è di tutto è solo va solo poi a fantasia questi invece sono gli stampi di carta per panettoni colombe ciambelloni e chi più ne ha più ne metta a stella a cuore piccoli grandi ecco mi ha fatto piacere farvi vedere queste cose